salve gente e benvenuti sul canale youtube max california 86 per il video di oggi ho deciso di tornare a parlare di un fumetto e in particolare che elettri volume pubblicato un paio d'anni fa e scritto e disegnato dal grande zero calcare uno dei miei fumettisti preferiti che ha avuto anche l'onore di vedere dal vivo a guglionesi un comune del molise a 20 minuti di macchina da dove abito io come si può vedere sono riuscito anche a farmelo autografare con il disegno dell'armadillo che accompagna zero calcare tutte le storie un volume che se siete fan di zero calcare non potete non avere in collezione nella vostra libreria io me ne sono innamorato subito fin dalle prime pagine vi mostro qualche tavola per farvi capire ciò che viene rappresentato in questa storia comunque vi parlo di scheletri dopo la sigla scheletri è una delle ultime storie scritte e disegnate da michela reich in arte zero calcare ci racconta il periodo post diploma da parte del fumettista e cioè quello universitario zero calcare tutte le mattine usciva di casa dicendo alla madre che andava all'università mentre invece stava cinque ore sulla metro facendosi tutte le fermate fino al capolinea senza mai scendere un giorno incontra arlock un ragazzo poco più piccolo di lui che ha altri motivi diversi dai suoi per stare tutto il giorno sui vagoni della metro b di roma zero calcare ci mostra se stesso nei primi anni 2000 affrontando anche il tema dello spaccio della droga nella periferia romana e soprattutto nel suo quartiere re bibbia nonostante in questa storia vengano narrati eventi non proprio adattissimi ad un pubblico di giovanissimi zero calcare comunque mantiene il suo tratto distintivo la sua ironia questa voglia di farci ridere e sorridere esistono due periodi ben distinti nella storia che zero calcare vuole raccontarci il primo è il 2002 nel quale vediamo il suo alter ego che racconta bugie alla madre uscendo di casa forse per farla contenta cercare di non deluderla e poi c'è il 2020 periodo nel quale il fumettista è pieno di lavori ai quali non riesce a dire di no consiglio la lettura di questo fumetto non solo ai fan di zero calcare ma anche a chi si approccia per la prima volta al suo mondo se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale youtube max california 86 nei commenti fatemi sapere se questo fumetto di zero calcare lo avete letto o no se vi è piaciuto o no se reputate scheletri tra i suoi migliori fumetti e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane segnatevi l'appuntamento perché il format di live al max qualche chiacchiera sta per tornare mercoledì 28 settembre alle 21 e 30 farò una diretta a tema sandman serie netflix uscita sulla piattaforma streaming il 5 di agosto ci ho fatto anche un video se volete recuperarlo e sapere se va vista o no e avrò come ospite un ragazzo che fa parte della redazione di horror italia 24 quindi vi aspetto numerosi mercoledì sera in descrizione trovate i link ai miei profili facebook instagram twitter e telegram nel quale trovate il mio gruppo max california 86 al quale potete tranquillamente iscrivervi se state cercando non solo notizie sul cinema e la serie tv ma anche sui video che pubblicherò sul mio canale youtube un saluto e ad un nuovo video qui sul canale youtube ma california 86 ma california 86 Grazie a tutti.